buon compleanno venezia un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città un caro saluto a tutti da fabio moresco e benvenuti ad un'altra puntata di buon compleanno venezia iniziamo la puntata ricordando il santo del giorno 18 settembre secondo il calendario liturgico veneziano oggi è il giorno dei santi vittor e corona martiri oggi avvenne 18 settembre 1557 la nobildonna zilia d'andolo consorte del doge lorenzo priuli giura da dogaressa oggi vi racconto oggi voglio proporvi un bel testo di una brava storica ricercatrice e scrittrice laura poloni apparso sulla rivista storia veneta venezia da almeno un secolo non festeggiava più degnamente le sue dogaresse le consorti dei doge a dire il vero non erano mai state festeggiate con particolare pompa cosa che si verificò invece con zilia d'andolo nel 1557 la città aveva più che mai bisogno di sognare e di riaffermare pubblicamente la sua magnificenza quindi grande festa venezia tra la nobiltà giura la dogaressa nel 1540 venezia aveva dunque concluso il trattato di pace con il potente sultano turco solimano il magnifico responsabile dell'ulteriore perdita di possedimenti veneziani nel pelo ponneso e nelle altre zone circostanti venezia aveva definitivamente chiuso la sua fase espansiva nel mediterraneo orientale e nel levante da almeno 50 anni dalla perdita di creta avvenuta nel 1490 era iniziata la sua inesorabili decadenza come potenza marittima e commerciale questa era la realtà attorno alla metà del sedicesimo secolo anche se proprio questo secolo paradossalmente ma non certo senza ragione sarà il secolo d'oro della serenissima anche la situazione finanziaria era fra le più disastrose che la repubblica avesse mai raggiunto 300.000 ducati erano appena stati versati ai turchi quali risarcimento danni mentre il debito dei privati cittadini nei confronti del governo ducale aveva ormai raggiunto cifre astronomiche per lo più inesigibili da qui una serie di provvedimenti fiscali presi in esame dal senato per poter racimolare denaro fresco e contante ma la durezza dei provvedimenti che in passato non avrebbero trovato alcun ostacolo nella loro applicazione non trovò nessun aiuto nella burocrazia che evitò di prendersi a cuore l'incomodo e spinoso incarico di riscuotere il denaro questo non era che un altro sintomo della crisi ancora per il momento latente di tutto un sistema quello veneziano che per secoli praticamente dalle sue origini si era retto sull'efficienza la determinazione e la puntualità d'azione della sua amministrazione una crisi politica e morale la crisi finanziaria portava con sé i germi anche della crisi morale da quelli più bassi a quelli più alti e i dogi che si susseguirono sul trono di venezia in quei decenni attorno alla metà del secolo sembrano personificare in pieno questo clima generale di rilassatezza non tanto per la loro condotta morale anzi quanto per un senso di profonda incidenza sull'operato dello stato pietro lando e poi francesco donà 1545 marcantonio trevisan 1553 francesco venier 54 ed infine nel 56 lorenzo priuli questo doge tuttavia si distinse nella griglia lista perlomeno per aver dato dopo 70 anni alla propria città una dogaressa o perché scapoli e santuomini o perché vedovi fatto sta che erano appunto quasi 70 anni che alla serenissima mancava sul trono la figura della dogaressa l'ultima era stata infatti la moglie del doge marco barbarigo anche se in realtà era da oltre 100 anni che le spose di doge non erano oggetto di una speciale cerimonia di incoronazione che ne sancisse l'alto ruolo accanto al consorte il priuli ripristillando la cerimonia nelle sue forme più sontuose fu in questo segno degno interprete e protagonista del clima sfarzoso della venezia cinquecentesca e così il 18 settembre del 1557 ad un anno dalla sua elezione la moglie del doge zilia d'andolo venne pubblicamente investita quale dogaressa quel giorno il doge accompagnato da 60 senatori lasciò il palazzo ducale e si recò nell'antistante piazza e passando sotto un arco di trionfo fatto erigere dalla corporazione dei macellai con il resto del corteo ducale si recò verso la riva per salire poi sul bucintoro l'imbarcazione ducale si diresse così alla volta di palazzo priuli del fratello del doge dove l'attendeva la consorte in un appartamento tappezzato d'oro e di seta il vestito della dogaressa era sfarzoso fatto di stoffe pregiatissime di broccati mentre sul capo portava il noto corno ducale dorato da sempre simbolo del potere e dell'autorità ducale e un diadema che le fermava un candido velo all'arrivo del doge zilia d'andolo si fece incontro allo sposo di fronte al quale ed in presenza dei consiglieri e del gran cancelliere giurava l'osservanza del suo capitolare dopo la cerimonia il corteo risaliva sul bucintoro per aprire la regata sul canal grande dove ad accogliere festeggiare la coppia ducale c'erano i rappresentanti di tutte le arti giunti in piazza san marco la cerimonia e la festa proseguirono a suon di trombe di colpi d'artiglieria caricata a salve tutta la piazza era naturalmente bardata a festa con drappi bianchi e lì prese il via la sfilata da prima i rappresentanti delle corporazioni delle arti cui seguivano gli scudieri del doge a questi facevano seguito 35 giovani donne vestite sontuosamente e 21 matrone vestite invece di nero finalmente preceduta dal gran cancelliere dei segretari e dei propri parenti veniva la dogaressa accompagnata da due consiglieri dietro a zilia il fratello matteo d'andolo con un manto d'oro affiancato da un procuratore di san marco il corteo si dirigeva poi verso san marco dove all'uscio principale gli si facevano incontro i canonici con la croce che la dogaressa baciava prima di dirigersi verso l'altar maggiore una volta arrivata all'altare la dogaressa consegnava ai canonici una borsa con cento ducati mentre successivamente sopra il messale ribadiva il suo precedente giuramento ultimata la solenne funzione e cerimonia la dogaressa usciva dalla chiesa attraverso la porta laterale che la introduceva direttamente in palazzo ducale e da qui alla sala del maggior consiglio dove finalmente poteva sedersi sul trono ducale la festa con balli e maschere poteva così iniziare accompagnata verso sera da fuochi artificiali nel cortile del palazzo venezia ancora una volta voleva dimostrare al mondo tutta la sua magnificenza tutta la sua ricchezza che erano i segni della sua stabilità della sua secolare potenza ed importanza di fronte a tanto sfarzo a tanta ostentazione chi poteva pensare ancora alla latente crisi venezia aveva bisogno prima di tutto di rassicurare se stessa si conclude qui la nostra puntata ma prima di lasciarvi con il proverbio del giorno vi ricordo che se vi è piaciuta la trasmissione lasciate un vostro mi piace ed iscrivetevi al canale youtube venezia classic presenta al manacco di venezia il proverbio del giorno l'olivo benedetto vol trova pulito e netto buon compleanno venezia un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città